immediatamente iniziò una festa indiavolata quasi un'orgia grusenka per prima chiese ad altavoce del vino fatemi bere voglio bere fino ad ubriacarmi come l'altra volta ricordi mitia ricordi quando ci siamo conosciuti proprio qui mitia in quel momento era come in delirio e pregustava la sua felicità grusenka però non lo lasciava avvicinare va svagati di a tutti di ballare di divertirsi e che cantino giri l'isba con la stufa tutto come allora come allora ripeteva era straordinariamente citata e mitia si precipitava a dare ordini il coro si era preparato nel locale attiguo la stanza dove erano rimasti fino a quel momento era oltretutto stretta e divisa in due da una tenda di cotone dietro alla quale si trovava un letto enorme coperto da un piumino e da un piccolo mucchio di cuscini foderati di cotone del resto nelle quattro stanze buone della casa c'erano dei letti grusenka si sistemò proprio sulla soglia mitia le portò una poltrona era lo stesso punto in cui era stata anche allora il giorno del loro primo festeggiamento e di là ascoltava il coro e assisteva alle danze le ragazze che si erano riunite erano tutte le stesse dell'altra volta arrivarono gli ebrei con i violini e le chitarre e finalmente giunse la carrozza carica di vini e provviste mitia era intento a organizzare si affacciavano nella sala a sbirciare anche degli estranei contadini e comari che si erano alzati dai loro letti poiché avevano fiutato un evento straordinario come quello del mese prima mitia salutava abbracciava i conoscenti cercava di ricordare i volti stappava bottiglie versava da bere a chiunque gli porgesse il bicchiere solo le ragazze adoravano lo champagne i contadini preferivano il rum e il cognac e soprattutto il punch bollente mitia ordinò che si preparasse della cioccolata per tutte le ragazze che si tenessero sul fuoco per tutta la notte senza interruzione tre samovar in modo che fossero sempre disponibili tè e punch caldi chiunque entrava avrebbe potuto servirsi insomma si stava dando inizio a un festeggiamento folle ma mitia si sentiva perfettamente a suo agio quanto più il caos aumentava tanto più egli si animava se in quel frangente un qualsiasi contadino gli avesse chiesto dei soldi avrebbe subito tirato fuori il suo rotolo di banconote le avrebbe distribuite a destra e a sinistra senza tenerne conto ecco perché probabilmente per proteggere mitia continuava a girargli attorno trifor borisic che per quella nottata aveva rinunciato definitivamente al sonno si guardava dal bere troppo non aveva preso altro che un bicchierino di punch e sorvegliava a modo suo e con tenacia gli interessi di mitia al momento opportuno lo frenava con rispetto e gentilezza si raccomandava non gli permetteva di elargire ai contadini come quella volta sigari e vino del reno né dio ce ne scampi soldi e si mostrava seccato del fatto che le ragazze bevessero liquori e mangiassero dolci sono un branco di pidocchiose mitia fiodorovic diceva io le prenderò tutte a calci e poi esigerò anche che lo considerino un onore ecco con chi hai a che fare mitia si ricordò ancora di andrei e gli fece avere del punch l'ho offeso ripeteva con voce tremante commossa calgano diceva di non volere bere e il coro delle ragazze inizialmente lo infastidì ma dopo avere votato altre due coppe di champagne cambiò umore camminava grandi passi per le stanze rideva e apprezzava tutto e tutti le canzoni e la musica maximov alticcio e beato restava con lui grusenka che iniziava a sentire l'effetto dello champagne mostrava calgano va mitia guarda come carino che giovane delizioso e mitia si slanciava con entusiasmo a baciare calgano e maximo o egli immaginava in cor suo molte cose belle lei non gli aveva ancora detto niente che potesse illuderlo e anzi evidentemente evitava apposta di parlargli limitandosi a rivolgergli solo qualche sguardo tenero ma ardente infine gli afferrò con forza la mano e lo attirò a sé era ancora seduta sulla poltrona vicino alla porta io voglio bene a qualcuno qui dentro indovina chi guarda il mio giovane si è addormentato e ubriaco il mio caro parlava di calgano questi in realtà aveva bevuto molto e si era assopito per un istante seduto sul divano ma non si era addormentato soltanto perché era ubriaco si era sentito ad un tratto triste o come diceva lui annoiato alla fine anche il coro delle ragazze l'aveva completamente nauseato le canzoni dopo che ebbero bevuto parecchio si fecero via via lente e volgari e ugualmente le loro danze due ragazze si erano travestite da orsi e stefanida una vivace fanciulla con un bastone in mano interpretava il padrone degli orsi e li presentava più in fretta maria gridava se no c'è il bastone alla fine gli orsi si rotolarono per terra in maniera proprio indecente fra le risate sguagliate di un folto pubblico di donne e di contadine che si erano affollate non lasciamo le fare ma si disponeva grusenca con un'aria serena sul volto capita loro un giorno di festa non dovrebbero forse divertirsi calganov invece aveva l'espressione di uno che si sente sporco sono uno schifo queste usanze popolari osservò mettendosi in disparte sembrano le feste di primavera quando le giovani custodiscono il sole per tutta la notte ma soprattutto lo infastidì una nuova canzonetta con un ritmo vivace di danza che parlava di un padrone in viaggio il quale interrogava le ragazze il signore alle ragazze mi amerete domandava ma alle fanciulle pareva che non si potesse amare il padrone il signore mi picchierà ma il mio amore non avrà poi arriva uno zingaro loro pronunciano zingaro e anche lui domanda alle ragazze mi amerete sì o no ma neanche lo zingaro potevano amare perché lo zingaro ruberà e il tormento mio sarà passavano così molti uomini e tra questi anche un soldato che rivolgeva domande alle ragazze il soldato domandava mi amerete sì o no ma il soldato veniva rifiutato con disprezzo e gli lo zaino porterà e io dietro gli qui cantavano il verso più licenzioso con brutale franchezza e ottenevano grande successo tra il pubblico che ascoltava la faccenda si concludeva con il mercante il mercante domandava mi amerete sì o no la risposta questa volta era che l'amavano molto perché dicevano il mercante in giro andrà comandar mi lascerà calgano arrivò ad arrabbiarsi questa canzone proprio vecchia osservò ad alta voce chi è che le compone manca soltanto che passino un ferroviere uno ebreo a interrogare le ragazze avrebbero la meglio su tutti e come se avessero offeso lui ripete che si annoiava si sedette sul divano e chiuse gli occhi aveva appoggiato il suo grazioso visetto piuttosto pallido sul cuscino del divano guarda com'è carino diceva grusenca facendo avvicinare mitia poco fa lo stavo pettinando che capelli folti ha paiono di seta e chinatasi su di lui con tenerezza lo baciò sulla fronte calgano vi riaprì gli occhi la guardò si sollevò e domandò con un'espressione inquieta dov'è maximov ma guarda di chi chiede rise grusenca non sta un po' con me va mitia corri a cercare il suo maximo maximo non si staccava più dalle ragazze solo ogni tanto correva a versare del liquore e aveva già bevuto due tazze di cioccolata la sua piccola faccia era rossa come il fuoco il naso era lucido i suoi occhi erano diventati umidi dolci accorse e disse ad alta voce che voleva ballare la danza degli zoccoli accompagnato da una bella musica da bambino me l'hanno insegnato tutte queste belle danze del gran mondo su va mitia accompagnalo io lo guarderò ballare da qui voglio venire anch'io anch'io esclamò calgano rifiutandosi ingenuamente di rimanere con grusenca andarono tutti a guardare e maximo infatti si mise a ballare nessuno lo ammirò con particolare entusiasmo fuorché mitia la danza prevedeva dei semplici saltelli lo slancio dei piedi in fuori con la pianta rivolta in aria e a ogni salto maximo batteva con la mano la suola della scarpa a calganov la cosa non piacque affatto mentre mitia arrivò a baciare il ballerino grazie forse sei stanco che cosa cerchi qui vuoi un confetto forse un sigaro una sigaretta e non vorresti bere ancora del liquore ma confettini alla cioccolata non ce ne sono eccono lì una montagna sul tavolo prendi quello che preferisci anima santa io vorrei quelli alla vaniglia quelli che piacciono ai vecchietti no fratello di cose così particolari non ce n'è ascoltate e a un tratto il vecchietto si avvicinò all'orecchio di mitia vedete quella ragazza mariusca come mi piacerebbe conoscerla se fosse possibile alla vostra bontà ma guarda un po che voglia ti è venuta no fratello tu sragioni non faccio mica del male a nessuno io mormorò sconsolato maximo bene fratello qui si canta e si balla soltanto ma per il resto che diavolo quanta fretta per adesso goditi il cibo e le bevande e divertiti ti servono dei soldi ora no più tardi forse sorrise rincuorato maximo bene bene mitia aveva la testa che gli scoppiava raggiunse la stanza d'ingresso e di lì entrò nella piccola galleria di legno che all'interno da un lato del cortile fiancheggiava una parte dell'edificio l'aria fresca lo rianimò si era rintanato in un angolo buio e all'improvviso si strinse la testa tra le mani suoi pensieri sparsi a un tratto si ricomposero le sue sensazioni si fusero in un tutto e dal tutto sgorgò una luce tremenda spaventosa e mi devo sparare un colpo quando mai potrei farlo se non adesso gli balenò nella mente prendere la pistola portarla qui e spararmi un colpo in quest'angolo sporco e buio rimase immobile nel dubbio quasi un minuto poche ore prima mentre arrivava al galoppo aveva lasciato dietro di sé il disonore il furto e quel sangue quel sangue allora si era sentito leggero sì più leggero perché tutto era crollato l'aveva perduta ceduta lei era morta per lui non esisteva più la sua decisione allora era stata facile gli era parso di non potere fare altro necessariamente infatti a che scopo restare in vita ma adesso la situazione non era più la stessa adesso non c'erano più incubi nessun fantasma lo tormentava quel suo primo amore l'uomo fatale che non si poteva discutere era fuggito senza lasciare traccia il terribile spettro era diventato una cosa ridicola senza peso era stato trascinato di peso in una camera e chiuso dentro a chiave non sarebbe tornato mai più lei adesso provava vergogna e dai suoi occhi poteva vedere chiaramente chiamava a un tratto ora bisognava soltanto vivere vivere non era possibile no non era possibile maledizione dio rendi la vita quell'uomo disteso vicino al recinto allontana da me questo terribile calice tu hai compiuto altri miracoli signore per altri peccatori come me e se il vecchio fosse vivo no allora io rimedierò alle altre mie colpe restituirò i soldi che ho rubato li renderò a costo di cercarli sottoterra della colpa non rimarrà traccia fuorché dentro di me eternamente ma nonno sono solo sogni impossibili puerili maledizione tuttavia in quell'abisso scuro brillò un raggio di luminosa speranza si mosse di là e rientrò di corsa nella stanza da lei di nuovo da lei la sua regina ormai per sempre un'ora un minuto del suo amore non valgono forse tutto il resto della vita sia pure fra i tormenti del disonore questa folle domanda gli rimbombava nella mente andare da lei solo da lei guardarla ascoltarla senza pensare a nulla dimenticare tutto il resto anche solo per questa notte per un'ora per un istante mentre dalla piccola galleria stava per accedere alla stanza d'ingresso incontrò il padrone Trifon Borisic che gli parve accigliato e inquieto forse lo stava cercando mi stavi cercando forse Borisic no non cercavo voi disse il padrone come sconcertato non ho motivo di cercarvi ma voi dove eravate perché questa faccia ti hanno fatto arrabbiare abbi un po di pazienza tra poco andrai a letto che ora è saranno le tre forse le quattro la finiremo tra poco ma no fate pure finché vi aggrada anzi cosa avrà pensò mitia per un attimo e corse a vedere nella stanza dove ancora stavano le ragazze lei non era lì nella stanza azzurra nemmeno kalganov sonnecchiava da solo sul divano mitia allora la cercò dietro la tenda era là stava seduta su un baule in un angolo e aveva appoggiato le braccia e la testa sul letto che era lì accanto piangeva amaramente cercando di soffocare i singhiozzi per non farsi sentire appena vide mitia lo invitò con un gesto e quando le fu vicino gli strinse la mano con forza mitia mitia io l'amavo prese a mormorare l'ho amato con tutto il mio cuore in questi cinque anni per tutto questo tempo ma era lui che amavo o soltanto il mio rancore no era lui o è lui io mento anche a me stessa quando affermo che amavo il mio rancore e non lui o mitia avevo diciassette anni appena ed egli era così amabile con me così allegro mi cantava delle canzoni almeno così mi sembrava sciocca ragazzina ma ora o signore non è più lui è un altro uomo anche il suo viso non è più lo stesso non è più per niente pensa nemmeno l'ho riconosciuto mentre ero in viaggio con timofei per tutto il tempo non ho fatto che chiedermi che accoglienza gli riserverò di cosa gli parlerò come ci guarderemo l'un l'altro mi sentivo mancare e ora l'impressione che mi abbia rovesciato addosso un secchio d'acqua sporca si rivolge a me come un maestro tutti i paroloni difficili e mi ha accolta dandosi delle arie io sono rimasta di stucco non sapevo cosa dire all'inizio creduto che avesse soggezione di quel suo amico polacque ero seduta e li guardavo pensando perché adesso non riesco a dire una parola sai è stata sua moglie a rovinarlo quella che sposò dopo avermi lasciato e lei che l'ha ridotto così oh mitia che vergogna mi vergogno tanto mitia mi vergogno per tutto quello che ho fatto maledetti maledetti questi cinque anni che siano maledetti e scoppiò di nuovo in un pianto di rotto ma non lasciò la mano di mitia e continuava a stringerla forte mitia colombella resta qui non andare ti voglio dire solo una parolina murmurò e improvvisamente gli rivolse lo sguardo ascolta dimmi chi amo io c'è qui un uomo che amo chi è quest'uomo dimmelo un sorriso illuminò quel viso gonfio di lacrime i suoi occhi ora sfavillavano nella penombra poco fa entrò qui un falco e mi sono sentita mancare che stupida sei ecco l'uomo che ami così mi perlò subito il cuore tu sei entrato e ha illuminato tutto ma cosa teme mi sono chiesta perché hai avuto paura così tanta paura non riuscivi più a parlare non è di loro che ha paura mi sono detta c'è forse qualcuno che ti intimidisce ha paura di me solo di me ti avrà raccontato fenia sciocchino quello che gridaia da lioscia dalla finestra che avevo amato mitia in un'oretta e che andavo ad amare un altro oh mitia mitia che sciocca sono stata come ho potuto pensare di amare un altro dopo di te vuoi perdonarmi mitia vuoi mi ami si alzò e con le due mani lo afferrò per le spalle mitia ammutolito per la gioia guardava estasiato i suoi occhi il suo volto il suo sorriso d'improvviso la strinse in un abbraccio e si mise a baciarla mi perdoni per averti fatto soffrire tanto la rabbia che mi tormentava il cuore mi ha fatto agire così e per sfogare la rabbia che ho fatto impazzire il vecchio ricordi quella volta che a casa mia dopo avere bevuto rompesti il bicchiere ogni mi è tornato in mente e anch'io rotto il mio bicchiere dopo aver bevuto al mio vile cuore mitia falco mio perché non mi baci ancora dopo un solo bacio ti allontani mi osservi mi ascolti perché starmi a sentire baciami baciami ancora ecco così quando si ama si deve amare con tutto il cuore ora sarò la tua schiava per tutta la vita e dolce essere schiava baciami picchiami tortura mi fa di me quello che vuoi o devi proprio farmi soffrire un momento non essere impaziente aspetta così non voglio e lo respinse bruscamente va via mitia adesso mi ubriacherò ho voglia di ubriacarmi e dopo ballerò e questo che voglio questo si divincolò e sparì dietro la tenda mitia la seguì come ubriaco e sia sia qualunque cosa accada ora darei tutto per un solo istante gli risuonò nei pensieri grusen come aveva detto bevede un fiato un altro bicchiere di champagne in un momento fu ebbra poi si abbandonò sulla poltrona dove era prima con un sorriso beato le sue guance le sue labbra si infiammarono gli occhi luminosi si intorbidirono il suo sguardo pieno di passione era un invito anche kalganov sentì una stretta al cuore e si avvicinò a lei hai sentito il mio bacio poco fa mentre dormivi gli sussurrò adesso sono ubriaca ecco e tu sei ubriaco e mitia perché non beve perché non bevi mitia io ho bevuto molto e tu non bevi sono già ubriaco ubriaco di te ma ora voglio anche bere scolò un altro bicchiere e cosa che stupì anche lui all'improvviso si sentì frastornato mentre fino ad allora aveva sempre mantenuto la lucidità come lui stesso si ricordò poi da quel momento tutto prese a girare come in un delirio camminava rideva parlava con chiunque tutto in uno stato di incoscienza l'unica sensazione che continuava a provare era il bruciore sentiva come un carbone ardente nell'anima gli sovenne poi si avvicinava a lei si sedeva al suo fianco la guardava ascoltava le sue parole lei parlava senza sosta voleva tutti intorno faceva improvvisamente un cenno a qualche ragazza del coro e quando quella si avvicinava le dava un bacio e l'allontanava o con la mano le faceva il segno della croce sembrava che da un momento all'altro avrebbe potuto mettersi a piangere anche il vecchiotto come aveva soprannominato maximo le metteva allegria quello correva ogni momento a baciarle le mani e ogni ditino e si mise di nuovo a ballare a cantare sulla musica di una vecchia canzonetta si scatenava nella danza quando giungeva al ritornello il maiale gru 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 la giovenca mu 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 la nitrella qua 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 e l'occhetta qua 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 la chioccia non finiva più di correre nella stanza e faceva un gran discorrere tiuriuriù tiuriuriù mitia dagli qualcosa chiedeva gru senca fagli un regalo è un povero uomo i poveri miserabili sai mitia andrò in convento davvero prima o poi lo farò aleosha mi ha detto oggi delle parole che non potrò dimenticare sì un giorno ma oggi continuiamo a ballare domani in convento oggi balliamo voglio sprenarmi brava gente che c'è di male dio mi perdonerà se fossi dio perdonerei tutti miei cari peccatori da oggi in poi sarete tutti perdonati ma io chiederò perdono perdonate brava gente una povera stupida ecco cosa dirò sono una velva nient'altro ma voglio pregare dio ho donato una cipolla anche una malfattrice come me desidera pregare mitia lasciali ballare non contraddirli gli esseri umani sono tutti buoni nessuno escluso la vita è bella anche se noi siamo malvagi la vita è bella siamo buoni e cattivi cattivi e buoni no spiegatemi perché sono tanto buona è vero eh sono buona buonissima e perché sono tanto buona così biascicava grusenka sempre più confusa per il vino e infine annunciò che voleva ballare provò ad alzarsi e barcollò mitia non darmi più da bere se anche te lo chiedo non darmelo il vino non dà la serenità gira tutto anche la stufa ogni cosa voglio ballare adesso ammirate come so ballare con che eleganza faceva sul serio prese dalla tasca un fazzolettino bianco di batista e lo strinse tra le due dita per sventolarlo mentre danzava mitia si diede da fare le ragazze restarono in silenzio preparandosi a intonare in coro un'aria di danza al primo segnale maximov avendo sentito che grusenka aveva intenzione di ballare mugolò per l'entusiasmo e saltellò cantando zampettine fianchi tondi e la coda girata all'insù ma grusenka gli sventolò il fazzolettino sul muso e lo allontanò e mitia perché non si avvicinano che vengano tutti a vedermi chiama anche quelli là i reclusi perché li hanno lasciati chiusi là dentro avvertili che sto ballando devono ammirare anche loro come ballo mitia con passo barcollante si avvicinò alla porta serrata dei polacchi e prese a bussare con il pugno ehi voi podvisocchie venite fuori lei vuole ballare vi sta chiamando laidak rispose urlando uno dei due pan tu sei un laidak non sei altro che un zile dovreste smettere di prendere in giro la polonia sentenziò kalganov che aveva bevuto in modo davvero esagerato sta zitto ragazzo se l'ho chiamato vigliacco non intendevo certo rivolgermi a tutta la polonia un laidak non è tutta la nazione piantala carino mangia i confetti gentaccia non sembrano neanche uomini perché non si li appacificano disse grusenka e si mise in posa per ballare il coro attaccò a casetta casetta mia grusenka gettò la testa all'indietro schiuse le labbra fece un sorriso agitò il fazzoletto e dopo avere preso lo slancio si fermò bruscamente in mezzo alla sala indecisa non ce la faccio non ce la faccio sussurrò quasi senza voce scusate sono debole non ho più forza scusatemi fece un gesto di saluto al coro poi prese a girarsi da tutte le parti facendo degli inchini mi chiedo scusa ancora scusa perdonatemi la signora bevuto ha bevuto troppo la bella signora si udì vociare in sala ha preso una sbornia chiariva maximo va alle ragazze divertito mitia portami via aiutami mitia disse grusenka sfinita mitia corse in suo aiuto la prese fra le braccia e si diresse con il suo prezioso tesoro dietro la tenda beh è ora di andare pensò kalganov e uscito dalla stanza azzurra si tirò dietro le due ante della porta ma nella sala la baldoria proseguiva rumorosa anche più di prima mitia posò delicatamente grusenka sul letto e la baciò sulle labbra non mi toccare sussurrò con voce implorante non toccarmi risparmiami vicino a quelli là non potrei mai c'è lui di là qui mi ripugna come vuoi non ci penso neanche a ti adoro mormorava mitia sì questo è un posto disgustoso volgare e si lasciò cadere in ginocchio sul pavimento vicino al letto lo sa lo sa che per quanto tu sia feroce hai l'animo nobile grusenka riusciva malapena a parlare dobbiamo fare le cose onestamente dura in poi ci comporteremo con onestà noi stessi dobbiamo essere onesti dobbiamo essere buoni non come fiere ma buoni portami via lontano da qui mi ascolti qui non voglio ma lontano lontano oh sì sta tranquilla e mitia la stringeva fra le braccia ti porterò lontano fuggiremo oh in questo momento sarei disposto a dare tutta la mia vita in cambio di un anno pur di dimenticare quel sangue di che sangue parli si stupì grusenka non farci caso e mitia di grignò i denti grusa tu vuoi che la nostra sia una vita onesta ma io sono un ladro ho approfittato dei soldi di katka che vergogna che vergogna i soldi di katka di quella signorina ma tu non puoi aver rubato restituiscili te li darò io perché ti scaldi quello che è mio e tuo che cosa contano per noi soldi intanto li sciuperemo ci sono persone che non li butterebbero via ma io e te andremo a lavorare la terra la voglio arare con queste mani dobbiamo faticare mi ascolti è un ordine di alioscia non sarà la tua mantenuta ma la tua sposa fedele la tua schiava lavorerò per te andremo insieme da quella signorina le chiederemo perdono poi potremo partire ma se non vorrà perdonarci andremo via ugualmente restituiscele il suo danaro e ama me non lei dimenticala se l'amerai la ucciderò io amo te te sola ti amerò in siberia in siberia ma sì anche in siberia come vuoi per me lo stesso lavoreremo in siberia c'è la neve a me piace viaggiare sulla neve con la campanella ascolta la sento da dove viene il suono di questa campanella qualcuno che passa ecco non si sente più chiuse gli occhi entusiasta e sembrò appisolarsi per un attimo era giunto da lontano il tintinio di una campanella poi l'improvviso era cessato mitia appoggiò la testa sul suo seno non fece caso a quella campanella ma non si accorse nemmeno che di colpo anche il coro aveva smesso di cantare e che finiti i canti e la confusione era sceso in tutta la casa un improvviso silenzio di morte grusenka riaprì gli occhi mi sono addormentata ricordo la campanella ho dormito e ho sognato mi pareva di andare con la slitta sulla neve la campanella suona io sonnecchio sto viaggiando sto viaggiando con un uomo caro è con te che viaggio è lontano lontano ti abbraccio ti bacio ti stringo forte mi sembra di sentire freddo e la neve risplende sai quando di notte la neve splende e la luna guarda dall'alto mi pareva di essere in un altro mondo mi sveglio e il mio uomo è qui con me che gioia con te ripeteva mitia baciandole le vesti il collo le mani e all'improvviso una strana impressione si impossessò di lui gli sembrò che lei guardasse dritto davanti a sé ma non guardava lui non il suo viso ma oltre la sua testa e il suo era uno sguardo inaspettatamente fisso ed immobile a un tratto sul volto di lei si dipinse un'espressione di meraviglia quasi di terrore mitia chi ci sta spiando chiese a bassa voce mitia si girò e si accorse che qualcuno aveva scostato la tenda e li guardava e non sembrava solo si alzò subito in piedi e avanzò rapidamente verso quell'uomo mitia uscì da dietro la tenda e rimase immobile la stanza era piena di gente ma non era quella di prima c'erano altre persone un brivido fulminio gli salì su per la schiena ed ebbe un sussulto in un attimo capì di chi si trattava quel vecchio alto e robusto con indosso il cappotto e con una coccarda sul cappello era il capo della polizia michael makaric quel tisico elegantone dagli stivali sempre tirati a lucido era il sostituto procuratore ha un cronometro che vale almeno 400 rubli me l'ha mostrato e quel piccoletto quel giovane con gli occhiali mitia non si ricordava il cognome ma conosceva anche lui aveva già avuto occasione di vederlo era il giudice istruttore appena uscito dalla scuola di giurisprudenza e quell'altro era il capo del distretto di polizia mavrichi mavrichic questo era addirittura una vecchia conoscenza ma quelli là con le piastrine perché sono venuti e quegli altri due contadini e là all'entrata kalganov e trifon borisic signori perché siete qui signori chiese mitia ma subito dopo fuori di sé come incosciente esclamò forte con tutta la voce che aveva capisco il giovane con gli occhiali si fece avanti per primo e avvicinatosi a mitia con compostezza ma come se avesse poco tempo cominciò siamo qui per insomma vi prego venite qui ecco qui vicino al divano abbiamo bisogno di parlare con voi urgentemente si tratta del vecchio gridò mitia esaltato del vecchio e di quel sangue ma certo e come colpito da uno sparo crollò sulla sedia che aveva accanto riesci a capire hai capito parricida e mostro il sangue del tuo vecchio padre grida vendetta contro di te gridò improvvisamente il capo della polizia mentre si avvicinava a mitia era fuori di sé dalla rabbia il sangue gli era salito al volto e tremava tutto ma non è possibile gridò il più giovane michael maccarice non così no non in questo modo vi prego lasciate parlare solo me non potevo assolutamente immaginare un contenuto simile da parte vostra questo è un delirio signori un delirio esclamava il capo della polizia guardate l'ubriaco in piena notte in compagnia di una ragazza traviata e macchiato del sangue di suo padre un delirio un delirio vi prego caldamente caro mica il maccarice di lasciare da parte per questa volta i vostri sentimenti si rivolse prontamente al vecchio il sostituto procuratore altrimenti sarò costretto a prendere ma il piccolo giudice istruttore non lo lasciò concludere guardò mitia in faccia e con voce ferma estentoria declamò gravemente signor tenente in congedo karamazov ho il dovere di comunicarvi che siete accusato dell'omicidio di vostro padre fiodor pavlovich karamazov perpetrato questa notte disse ancora qualche parola anche il sostituto procuratore aggiunse qualcosa ma mitia benché pareva ascoltarli in realtà non li comprendeva più rivolgeva a tutti uno sguardo smarrito grazie grazie grazie